Benvenuti a Terra Madre, siamo qui con Giorgio Milano di Birrificio Grado Plato, benvenuto Giorgio, riconfermato maestro del gusto, birrificio artigianale. Cosa ha portato al vostro birrificio far parte della rete maestra del gusto? Siamo entrati a far parte della rete maestra del gusto da diversi anni e devo dire che ha portato intanto l'occasione di conferme, cioè sia sul nostro prodotto che sulla metodologia di produzione e poi l'occasione di incontrare altri personaggi che hanno la stessa nostra filosofia di produzione. Quindi questa è una cosa che senza un'organizzazione alle spalle è difficile perché poi ci si disperde, ognuno vede il suo, invece così c'è l'opportunità di trovarsi in una piazza. Facciamo questo paragone. Mi puoi riassumere in tre concetti, in tre parole il vostro percorso come produttore di birra artigianale in provincia di Torino? Ma guarda allora è un percorso comune a molti quelli della prima ora, adesso noi non siamo stati i primissimi ma comunque abbiamo aperto nel 2003, quindi facciamo parte un po' della prima ondata e abbiamo trasformato in professione quello che era il nostro hobby, cioè fondamentalmente ci si produceva le birre in casa e poi si è vista la possibilità, mancando un prodotto di qualità, di una certa qualità sul mercato, si è vista la possibilità di farlo e quindi è iniziata l'avventura. In questi vent'anni abbiamo visto tante cose, fortunatamente si è sviluppato molto il panorama, ci siamo resi conto che non è ancora finita l'avventura perché il mondo delle birre è talmente vario, è talmente, io direi quasi infinito se mi si può concedere questo termine che chissà, voglio dire dove andremo a finire, ogni giorno se ne scopre una nuova. Perfetto Giorgio, grazie mille e buona terra madre. Grazie a voi.